buongiorno allora oggi parliamo di promozione musicale sarà un video interessantissimo se non rimanete fino alla fine avete veramente dei problemi secondo me però detto questo ve lo farà matteo gli ho chiesto matteo di diciamo spoilerare questa strategia che ormai da un po di tempo stiamo su un progetto su cui stiamo lavorando che il progetto di pierre piras che è un bassista sardo ok con già un background solido cioè insomma con un suo storico ed è stato super interessante il lavoro svolto in questo caso da matteo che si occupa appunto dalla parte promozionale di questo suo primo lavoro discografico nel senso primo lavoro discografico di pierre e quindi io ci tenevo a fare questa breve introduzione lasciando subito spazio a matteo ricordandovi che uno la bacchetta magica non esiste due le strategie non sono uguali per tutti ci teniamo veramente sottolinearlo perché perché io so già che c'è chi proverà a replicare questa questo studio è questo lavoro fatto da matteo che però è estremamente contestualizzato però sicuramente potrebbe secondo me e potrà darvi spunti interessanti per cui vai matteo signori benvenuti e oggi parliamo un po di qual è il processo per promuovere le cose in maniera efficace sensata e che non sia un specchio per le lodole come molto spesso si vede in giro insomma questo che vado a fare una schematizzazione sintetica di tutto il lavoro che è avvenuto da due mesi a questa parte tramisa questa parte il che è oro per chi ha una mente abbastanza sveglia partiamo dal dal dalla premessa prima come per rilacciarmi a michele è stato fatto ad hoc per la casistica di pierre pierre un bassista che ha già ottenuto dei risultati ha già un pubblico di riferimento ed ha già avuto una esposizione di un certo tipo su determinate testate con testi canali youtube eccetera primo passo è la definizione dell'identità artistica tenendo conto del fatto che bisogna avere una conoscenza pre-ressa del diciamo del lavoro che si va a fare e di come funziona il chiamiamolo personaggio cioè quella forma di noi stessi che che prende forma nella mente degli altri quando ci vedono ci ascoltano artisti partendo dalla musica stessa in questo caso essendo musica strumentale ma anche il messaggio della parola quindi non ci sono dei valori effettivi messi in un modo comprensibile il che restringe il campo analitico in tre punti principali che poi ne racchiudono da tanti altri ma li schematizzo in questo modo il primo è musica bassistica e poi veniamo al perché l'ho messa il secondo è il contesto culturale da cui pierre proviene nel suo caso è sardo la sardegna ha il pregio di avere questo senso di identità molto forte il che ci ha portati alla al trovare la definizione di pierre come un bassista virtuoso mediterraneo perché la sua musica è mediterranea lo si sente lo si percepisce ed è nel dna di lui stesso ora il perché abbia messo musica bassistica appone il fatto che è una nicchia molto specifica i bassisti sono particolarmente hanno particolarmente il feticcio del loro strumento della musica che avviene attraverso il loro strumento il che pone un problema il problema qual è? come faccio a definire in questo caso pierre in un modo che si identifichi in maniera differente da tutti gli altri bassisti il contesto culturale da cui viene il contesto culturale da cui viene che anche il terzo il suo terzo punto che va a braccetto col secondo appunto è il diciamo i valori personali dell'artista che è una cosa inscindibile da questa tipologia di procedimento poiché ovviamente la creazione di un personaggio si avviene in un modo non naturale non è credibile il suo caso ripeto proviene dalla Sardegna nella sua musica è presente una forte certo un'identità una sonorità un modo di aprirsi aprire il proprio sound a escursioni di quel tipo e allora abbiamo trovato questa definizione quello è il punto di questo che quando tu hai questi tre punti abbastanza chiari cos'è che trovi? trovi la narrativa il che include sia diciamo tutta la parte stilistica di come definisci lo stile che stai suonando sia quello che è il tuo personaggio cioè il fondamento valoriale o di contesto relativo a a come puoi porti a come puoi porti nel nel mercato di fronte ai magazine certo di fronte che colore dai a te stesso al tuo io artistico sostanzialmente senza entrare nei dettagli poi che sto facendo una una schematizzazione il più stretta possibile ovviamente non è è molto più complesso è molto più complesso è meglio il senso questo è venuto fuori allargando la visione il più possibile per poi semplificarla quanto più congeniale sia certo ma dillo che tutto ciò è un processo complesso è senza dubbio come dice spesso Michele la strategia non è uguale per tutti è una cosa non esiste esatto e anche la ragione qua io dico magari aspetta mi inserisco un attimino tante persone in quest'ultimo periodo hanno lamentato difficoltà nel rapporto per esempio con servizi promozionali o uffici stampa o questo genere di cose alcuni anche in modo molto pesante c'è gente che ha investito magari migliaia 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 di euro per promozioni che poi non hanno non sono servite a niente perché? le promozioni non danno garanzie perché manca non c'è una garanzia ma non c'è neanche perché non manca la proceduralità nella costruzione di una promozione efficace e basata sul processo proceduralità cura attenzione e fede anche gli ascoltatori sono meno stupidi di quanto i musicisti queste cose le sgama un ascoltatore le sgama subito perché è attento quindi tornando a prima abbiamo una narrativa ma abbiamo anche un problema non te ne fai nulla della narrativa sono le direzioni va quindi direzionata scusa scusa posso farci una domanda direzionare stai intendendo il senso pratico protettivo o il senso diciamo di sponsorizzazione di queste cose qua cioè o entrambe le cose no la direzione è una cosa di persona neutrale quindi la puoi applicare al tuo campo come al mio nel mio caso è dire ok io ho questa forma di identità artistica come faccio a farla funzionare a livello promozionale in determinati contesti è quello il punto mio ovviamente la direzione com'è che la trovi prendendo la tua identità artistica facendo un diciamo un'analisi del territorio cioè tu devi sapere a chi vai a a riferirti devi sapere qual è il target di persone di contesti culturali o di magazine appunto o qualsiasi altra attività similare fa riferimento alla tua musica analizzi il territorio e cosa esce dall'analisi escono i target cioè esce dalla diciamo la la direzione che dai alla tua narrativa escono i target nel suo caso per fare degli esempi pratici ne abbiamo individuati tre uno basandosi sulla l'aspetto più identitario a livello musicale quindi il fatto che sia musica bassistica il target è bassistico di conseguenza sai che devi andare a colpire tutti quei contesti che sono di fruizione dei bassisti che ripeto hanno il feticcio rispetto al proprio strumento il secondo è culturale ripeto è sardo la sardegna identità esistono che ho individuato per fare degli esempi delle testate delle attività del dei contesti che promuovono la musica specificamente sarda d'altro canto anche tutti gli altri che non sono prettamente musicali ma che sono culturali poiché la musica va a colorare il valore di questi è comunque compatibile quindi non andremo a puntare il posizionamento in magazine o altro di carattere generale cosa che allora gli uffici stampa hanno questo trucchetto del fatto che essendo sostanzialmente portati avanti da redattori da giornalisti o da ex da ex redattori o ex giornalisti hanno i contatti ma hanno anche accesso a determinate testate medie non sono note né nulla di cultura generale e sono quelle stesse testate dove solitamente si va a finire ma sono testate sì che non servono cioè tu dici fuori target ma sì non è non è il fatto non è il fatto di che sono fuori target è il fatto che non hanno un pubblico c'è sono così è allucinante così che non ti spieghi l'esistenza sono testate giornalisti che non è che hanno una redazione gli uffici stampa spesso hanno proprio l'accesso a questi hanno l'autonomia nella pubblicazione degli articoli ce li ho anch'io per dire ce li ho anch'io sta cosa e quindi arrivare lì non ha un senso ha un senso se c'è un cazzo di senso dietro al dove vai a posizionarti non servono a nulla 20 o 30 articoli in contesti del genere ma è molto meglio averne anche due o tre in un contesto che c'entra con quello che fai e che ha potenzialmente un pubblico lo ripeto 20 o 30 articoli su magazine su testate giornalistiche su canali youtube di caratura generale non direzionata appunto e che non c'entrano nulla con l'identità artistica del proprio progetto sono fuffa è molto meglio averne tre ma direzionati posizionati in contesti adeguati il terzo target è legato allo stile cioè il term target stilistico che si in un certo senso va a rilegarci al bassistico ma nel suo caso appunto è uno stile bassistico che si che si che fa da nucleo a tutta una serie di colori di escursioni sonore che vanno a rilegarsi alla world music in parte al progressivo e in parte al jazz ora abbiamo tre target direzionati cosa ce ne facciamo? ce ne facciamo che da qua esce la cosa che è già stata citata da michele non so quante volte cioè il chiamiamolo così piano strategico perché perché tu vedi il campo cromè tu hai in questo caso tre linee di azione suddivise poi in altre sottolinee e capisci come puoi muoverti cosa puoi fare dove è meglio posizionarti se hai esempio un'uscita in una tal data puoi decidere che tipologia di contenuti far uscire rispetto a una certa linea o un'altra banalmente in quei in quei contesti più culturali si parlerà di Sardegna di come la Sardegna di come il il sapore mediterraneo ha influenzato la musica nel bassistico si parlerà più di un legame con la tecnica appunto bassistica in quei magazine chiamiamoli di target stilistico nel suo caso è più legato a una cosa certo stilistico non tanto si ma è anche la tipologia di contenuto cioè qua e qua non escono recensioni escono interviste articoli altro invece invece in quelle testate dove si parla più di musica vai sulla critica alla musica stessa la cosa più importante che viene fuori tra la riga di quello che hai detto è questa attenzione a prendere il prodotto e a fare collegamenti con cose diverse lo posizioni nei contesti adatti e attenzione si pensa tanto che promozione uguale posizionamento sui magazine non è proprio così non è proprio così perché non è apparire in determinate testate che vi porta agli ascolti che vi porta i fan o le visualizzazioni o quello che volete non è quello il funzionamento il funzionamento è legato allo status che tu hai quando appare lì e quindi come appare alla gente che ti vede problema che dico anche in un altro modo se tu appari ok ci arrivi ma se tu non hai esposizione a un pubblico non hai esposizione a nulla non hai visibilità di sta roba non te ne fai niente sostanzialmente nulla perché perché serve a stimolare il pubblico in un certo modo chi vi racconta che l'ufficio stampa promuove cioè facendo queste cose non sta promuovendo cioè sta facendo un lavoro di posizionamento nel contesto giornalistico detto in maniera un po' becera però è questo eh invece sono piccoli se vi serve un pubblico non è questo a cui dovete puntare ma a specialmente autopromuovermi autopromuovervi e fare meno affidamento a coloro che vi dicono vieni da noi e ti diamo ti diamo visibilità ti diamo promozione ti diamo un'esposizione a qualcosa però allo stesso tempo io posso dire una cosa Matteo se non hai però se non fai questo genere di analitica è molto difficile anche che poi tu riesca tra virgolette a autopromuoverti in una in una in una modalità direzionata diciamo sì che senza dubbio sono cose che vanno a braccetto cioè autopromuoversi senza questo aspetto è molto meno efficace rispetto al mettere insieme le due cose dall'altra parte uscire solo su magazine avere solo posizionamenti nella stampa senza che cazzo ne so banalmente un'attività sui social adeguata con una comunicazione adeguata con dei contenuti adeguati la piattaforma su cui si va a operare vi lascio a voi la lascio a voi la risposta sostanzialmente quindi pensate bene prima di fare certi step nel caso di Pierre è uno step necessario perché è già arrivato ad un punto in cui per espandersi ha bisogno certo deve procedere anche in questo modo se partite da zero e poco più però io qua io qua posso dire una cosa lo dico a favore di Matteo intanto vabbè sono veramente super sono super orgoglioso di avere veramente a che fare io anche imparo tantissimo a stare con Matteo con Dario quindi magari impariamo tutti impariamo tutti tanto perché tutti abbiamo esperienze differenziate ovviamente quello quello che però io voglio dire ragazzi che questo lo dico anche per scoraggiarvi ok cioè voi capite bene che quello che oggi vi ha fatto vedere Matteo in non so quanto venti minuti o quello che è è frutto di ricerca di studio di lavoro di tempo di anni di esperienza anche di auto messa in discussione di auto esatto esatto poi ci teniamo anche a specificarlo e ci teniamo anche a specificarlo e sfido chiunque e sfido veramente chiunque a dire la stessa cosa noi sappiamo benissimo in questo caso parlando di questo progetto di Pierpiras dove io in questo caso con Pierre sto facendo un lavoro parallelo per cui anche qua le strategie non sono uguali per tutti sono sempre parallele ricordatevelo che non è che questo genere di lavoro ci garantisce un risultato cioè nel senso quindi il discorso qual è? è che si cerca di direzionare le cose in un modo mirato in un modo ponderato in un modo strategico in un modo furbo in un modo appunto ponderato ma non è detto che il disco di Pierpiras in questo caso l'album di Pierpiras per forza grazie a questo lavoro avrà una grande visibilità ovviamente ce l'auguriamo e faremo di tutto ovviamente per cercare di fare il meglio però io questo voglio dire perché cosa? che se voi pensate che un c***o di videocorso di m***a da 500 euro ok? da 500 euro possa sostituire questo genere di cose voi siete veramente siete completamente fuori strada ma sai cos'è? secondo me chi pensa così deve avere una visibilità no 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 ma sai io perché lo dico perché tante volte no? io poi vedo e io questo è un altro consiglio che vi do così a gratis quando voi siete in una fase progettuale del vostro progetto ma io intendo anche disco o intendo anche i professionisti ecco cioè questa è una roba che si fa anche che in questo caso Pierpiras è un professionista ok Pierpiras è un professionista non so come dire dovete fare molta attenzione a come investite il vostro denaro a meno che voi non siate non lo so dei milionari che quindi dite vabbè ma sì che me butto 10.000 euro di qua 20.000 euro di là succede alle volte però è importante quindi quando noi diciamo sempre è inutile che ti metti a fare delle cose in modo seriale se prima non fai un lavoro analitico poi la gente mi prende in giro mi dicono perché tu dici queste cose ma poi alla fine non succede niente è un lavoro che si deve fare prima poi pensate a tutto il resto se lo capite bene e io spero che con questi contenuti che tra l'altro io ringrazio sia Matteo che Dario che si prestano a fare a farsi questi sbattimenti ok Matteo è venuto anche tra l'altro da Brescia stamattina ha fatto l'odissea nello spazio contro l'Italia ok quindi però ecco valutatelo quindi si deve lavorare seriamente mi so dire una cosa vai va la velocissima oh no facevo finto ok e allora tutto questo è fondamentale è una cosa che vorrei insistere cioè vedete tutti i punti da cosa derivano poi alla fine cioè qual è la cosa attorno a cui gira tutto quanto sia bene che è sardo che c'è questo contesto culturale ma il fatto che è sardo di per sé conterebbe nulla perché se mi trasferissi in Sardegna domani continuerei a fare la musica certo e se fossi piemontese non avresti il contesto culturale io poi io poi che sono piemontese sui miei progetti non metterei mai che sono piemontese no non lo so anzi no non devo dire tagliamo che sono piemontese io sono un piemontese che non apprezza i piemontesi però tutto quello da cui deriva questo è la musica io aggiungerei una cosa in più secondo me vado forse fuori del seminato addirittura io prima di scrivere la musica farei questo ragionamento cioè proprio vi consiglio e quindi parlo dal lato di composizione arrangiamento volete fare un disco la prima cosa bene andate in un bosco sedetevi e aspettate una buona idea chiudo dicendo una cosa per rilegarmi al discorso dei videocorsi di Michele vai vai una pesta al giorno fighieri fighieri non è tanto il se il la diciamo il fatto che è un videocorso ovviamente non risolve la vita nessun videocorso risolve la vita a parte i nostri a parte i nostri a parte i nostri che però voi non vedete qual è il punto il videocorso sei siete voi il computer siete voi il nulla forse è quello che dovreste fare uscire dalla vostra c***o di cameretta e andare a frequentare diciamo i contesti fisici reali e umani che vanno a dare anche un un contesto concreto e fisico a quello che è il vostro target e forse tra l'altro mettendovi a confronto con altre persone e smettendo di stare così nel vostro forse il vostro ego potrebbe essere un po' meno un problema che